Nuovo appello alla solidarietà con l'Ucraina dopo la raccolta di farmaci e indumenti ha preso il via a Isernia anche la raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino. L'iniziativa è stata lanciata ancora una volta dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa Territoriale e c'è tempo fino al 9 aprile per donare cibo secco o a lunga conservazione, pannolini e pannoloni ma anche assorbenti e detergenti. Il punto di raccolta è stato allestito nei locali sotterranei dell'auditorium di Isernia. Fiducioso nella collaborazione degli Isernini il presidente regionale della Protezione Civile Luciano Appogliese che ha chiesto l'aiuto di tutta la popolazione. Stiamo cercando di fare un'ottima raccolta come andare bene quella dei farmaci e penso che andrà benissimo anche questo perché la cittadinanza è molto ambia a collaborare. Quindi si chiede alla massima collaborazione anche presso i supermercati, altre associazioni che vogliono aderire e gli stessi cittadini dell'interno territorio della provincia di Isernia. Ecco, spieghiamo meglio cos'è che occorre. Allora, quello che occorre sono ben di prima necessità. Quindi scatolame, pannolini, pannolone, assorbenti, detesivi, scatolame, quello sembra lunga conservazione. Poi gli insaccati e preferibili di no perché non ce li fanno passare, che non accettano. E tutto questo, diciamo, bene di prima necessità, pasta, zucchero, caffè e tutto quello che rientra nella lunga conservazione.